Un saluto dalla redazione di Roma Servizi per la mobilità, il conto alla rovescia è iniziato all'apertura della Porta Santa, l'8 dicembre mancano 10 mesi e per quella data il 90% delle opere giubilari sarà ultimato. A confermare le date è stata l'assessore ai lavori pubblici di Roma Capitale Ornella, segnalini per quel che riguarda la mobilità i principali cantieri giubilari aperti sono quello per il sottopasso di Piazza Pia a San Pietro, quello per la riqualificazione del ponte dell'industria tra Ostiense e Marconi e l'intervento per la nuova piazza dei 500.